... Qui all'Auditorium di Roma, tra stampanti 3D, droni, circuiti, c'è anche un archeologo, sempre in salsa Maker Faire. Abbiamo realizzato dei robot per andare ad esplorare, come proprio degli archeologi e degli speleologi, le catacombe e ricostruire, avere un modello 3D che può essere utilizzato da questi specialisti per effettuare monitoraggio e manutenzione dei siti archeologici. Il robot è in grado di operare per circa 6-7 ore. È un robot che può funzionare in diverse modalità, sia teleoperato, ma anche in modalità autonoma. È in grado di esplorare delle porzioni di ambienti sconosciuti, come sono le catacombe, in cui ci sono chilometri e chilometri assolutamente inesplorate. I sensori robot sono in grado di riconoscere vasi, affreschi o comunque cose particolari che possono essere trovate durante l'esplorazione del robot. Sarà in grado autonomamente di riconoscerli e di segnalare all'operatore, in modo che l'operatore possa richiedere ad esempio una scannerizzazione più precisa, un dettaglio maggiore per andare a vedere e individuare il manufatto che è stato individuato dal robot.